Buongiorno a tutti, questa mattina abbiamo messo in moto questo bellissimo Focore 700 colorazione bandiera italiana, come promesso ecco nel video, latte prima Buongiorno a tutti 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 Scusate Grazie a tutti. Vediamo invece da queste parti cosa si fa, qui abbiamo un altro bel 700 pronto. Eccolo qui, full chrome. Bellissimo. Sempre con un bel carburatore da 40 web. Bene ragazzi mi aspetto alla prova su strada, ciao.